Sabato sera su Rai, uno è andata in onda l'ultima puntata di Affari Tuoi, condotta da Amadeus. Per il presentatore, questa è stata l'ultima serata alla guida del programma, dato che ha annunciato il suo passaggio al Canale 9 nella prossima stagione televisiva. Inaspettatamente, però, qualcosa di molto particolare è accaduto in studio. Sabato 1 giugno 2024 ha segnato la conclusione di due stagioni di successo del game show Affari Tuoi. Dopo Amadeus, il candidato più probabile per la conduzione è Stefano De Martino. Ieri sera, Amadeus è stato accolto in studio con un lungo applauso del pubblico, che si è alzato in piedi in una standing ovation per mostrargli il loro affetto. Un momento emozionante, ma subito dopo è iniziato il gioco. La protagonista della serata era Angela, rappresentante delle Marche, accompagnata dal marito Tommaso. L'ultima puntata di Affari Tuoi non ha deluso, offrendo una carica di emozioni. Angela è rimasta in gioco con soli 50 euro e 5.000 euro, tentando il colpo con la regione fortunata. La sua prima scelta, la Puglia, si è rivelata sbagliata, dimezzando il Monte Premi. Poi, nel gran finale che tutti speravano, Angela e suo marito hanno scelto la Sicilia e hanno vinto 550.000 euro. Sull'onda dell'entusiasmo per il finale esplosivo, i telespettatori di Affari Tuoi hanno salutato Amadeus con uno striscione che diceva «Grazie ama» e un cuore. Amadeus, visibilmente commosso fino alle lacrime, ha ringraziato il pubblico in studio e da casa, oltre ai tecnici e agli autori del programma. E tu cosa ne pensi della notizia? Iscriviti al canale e lascia un like per non perdere altre notizie. Grazie.